Oggi ragazzi come avrete letto dal video andremo a fare un video veramente molto epico con mio fratello Ciao ragazzi E oggi raga guardate qua Lucas Guardate qua raga Abbiamo preso un sacco di panini Non so perché Ma non si dice Ok vabbè la luce è un po' così però ragazzi Sono un sacco di hamburger del McDonald E per ogni chili che andrò a fare ragazzi In partita Lucas dovrà mangiarsi un panino E ragazzi se volete che questo video qua diventi una serie Lasciate un bel mi piace raga arriviamo a Ascoltatemi bene ragazzi Lucas ascoltami bene La prossima volta se arriviamo a 50.000 mi piace Lo facciamo con le caccone Mangi le caccone Mangi le caccone Raga 50.000 like si mangia le caccone Raga 50.000 like si mangia le caccone Raga fidatemelo fa Quindi ragazzi mi rai quando spolliciato Perché a 50.000 like Lucas ti mangia le caccone Dai su Raga spolliciate 5 secondi per lasciare il piace Raga veloci veloci subito Lasciate mi piace E oggi ragazzi andremo a salutare Elite Z Rossi adranno 2 Atk Ricky Feg 1377 E Mattia Mascara7 Quindi ragazzi se anche voi volete essere salutati Seguitemi su Instagram Ora raga vi lascio con il video Perché adesso bisogna andare a fare le uccisioni Per far mangiare tutti Ma dico tutti questi panini a Lucas E ragazzi a 50.000 like Vi facciamo già le caccone Le caccone Lucas Vabbè Qualcos'altro raga I sushi cose raga 50.000 mi piace Per far diventare questo video una nuova serie Quindi ragazzi spolliciate Ed eccoci qui ragazzi Siamo in lobby Io ho già messo il mio ping per gatto grill Sono veramente carichissimo Per fare queste 8 kill Però appunto farti mangiare Più panini possibile Lucas Perché è arrivato Il momento di farti mangiare Tanta 8 kill sono tante Guarda i packet loss Io non so C'è sti problemi di connessione Dai Lucas Ti faccio mangiare 30 panini oggi 30 panini Lucas Buono Pistolina Inutile Easy Una kill Lucas Un panino Dimmi quanti panini vuoi E ragazzi Prima di lasciarvi con il video Vi volevo ricordare Che questo weekend Il 24 25 26 Ci sarà il primo torneo Ufficiale 11 cm In palio ci sono 3000 euro Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi tutti al torneo Dovete avere per forza Tutti 16 anni Quindi ragazzi Se non avete 16 anni Non iscrivetevi Quindi preparatevi La vostra trio Perché appunto Il treno ragazzi Si svolgerà in trio Quindi preparate La vostra trio E iscrivetevi ragazzi E ci vediamo Questo weekend A questo fantastico torneo No È white È white Sì 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 Easy Lucas Due kill Pulite Ok Pochi mezzi Easy Easy C'è c'è un tipo lì Aspetta un secondo Io voglio farti mangiare i panini Non voglio morire Ma dai ma così easy 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 Devo già mangiare tre panini Easy easy Non so perché stai esultando Boh io non ti ho capito No no va bene così Basta che non lo fai di più Io qua vado per le 30 kill Lucas Ma chi è 30 kill Che sono Dillo che sono bot Che te ne faccio 40 Sì sì 40 Ma di Questo qua sta sognando No se pusho quello lì Mi ha imparato il Eh sì mi ha rotto il Eh sì 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 Vieni capitano America Vieni 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 5 kill 5 kill Lucas No ma no ma no Lucas Carico 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 5 kill Lucas 5 kill Lucas Ma c'è un altro? C'è qua 7 kill Lucas No 7 kill 7 kill Ragazzi Gli sto letteralmente Escitonando uno dopo l'altro Ma perché quando si tratta di una sfida del genere Ragazzi Devo impegnarmi Ma ti fai le 20 sul serio? Ti faccio le 20 Lucas Lucas ho 7 kill e voglio farne ancora tante Altre tante Altre tante Cioè tu lo sai che esploderò già con 7 vero? Io voglio vederti mangiare 7 panini Lucas Secondo me non ce la fai È normale che non ce la fai Secondo me non ce la fai Però vediamo Allora andiamo all'autorità Io non ho ancora visto nessuno in questa zona Boh Non c'è letteralmente un'anima viva qui Ah E tu chi sei? Craccato GG Un altro kill GG GG ragazzi GG No No Penso Non c'è Allora No Ok Non c'è So Non c'è Trazione Non c'è Non Ok No Non Non No Non Stefu Non L'avevo distrutto L'avevo distrutto Comunque Comunque Sette panini Ragazzi Facciamo un bel taglio E adesso Luca andiamo a prenderci i panini Andiamo a prenderci i panini Allora Luca Ecco qua I tuoi panini ragazzi Ne ho portati 1,2,3,4,5,6 7,8 Ci sta Te ne mangi 7 Luca è il momento di mangiare Volevi mangiarsi i panini Adesso li mangi Qua c'è l'acqua se vuoi E' partito il momento E questa Luca è la mia prima Che ho fatto Com'è sto panino? Caldo? Ok ok Penso che questa parte qua ragazzi la metteremo Senza talli Tutto in velocità tipo per due Quando non parliamo Ha messo il cetriolo Nooo Ti ha messo il cetriolo? Sì No aspetta Do una cucchiata io Guardo Ne guardo un altro Ti giuro Vediamo Ma qui non c'è Ma qui non c'è Qui non c'è Lucas vai Secondo panino per Lucas ragazzi Secondo panino Lucas Io già ti vedo distrutto Io già ragazzi lo vedo distrutto Hai finito Hai appena finito il tuo secondo panino Allora Lucas questo è il momento del terzo Ah si è partito così Terzo panino Vai Lucas Te ne mancano ancora quattro Vai Lucas con il tuo quarto panino Oh 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 così zitto Senza dire nulla E finisce il quarto Te ne mancano ancora tre Ce la fai? No Non ce la fai? Ne prendi un altro Ne prendi un altro? Basta ragazzi non ce la faccio più Ci rinuncio Ci rinuncio? Ci rinuncio Poi il cittadino mi fa scrivere Ne hai mangiati quattro e mezzo E mezzo Questo qua ragazzi è il suo quinto panino Quello che è rimasto Lo vedete qua Oh mi dico ma perché la luce è così? Beh comunque ragazzi questo qua era il suo quinto panino Nulla Lucas Non sei riuscito a finire questa sfida Ma erano tanti Io ragazzi vi dico Se arriviamo a 50.000 mi piace Faremo questa sfida qua Però al contrario Magari oppure con la cosa che dicevo io all'inizio Quindi No Faremo qualcosa di divertente Quindi ragazzi Sembra quando spolliciate Abbiamo 50.000 Nulla raga Sempre il codice supporto del creatore Zen6G nulla ragazzi Da Zen6G è tutto Bella